Siamo in compagnia del preparatore atletico della Spaglia, Yuri Fabrizzi. Insomma, è il momento dell'anno dove la tua figura è veramente importante. Sì, diciamo che è un momento in cui lavoro un po' di più, posso più tempo per lavorare. Poi durante l'anno ho meno tempo sicuramente, quindi ora cerco di incidere un po' di più. Poi, chiaramente il tempo dedicato alla palla è sempre un tempo importante, però sì, in questa parte è così, come dici. Quali sono i segreti per una buona preparazione? Segreti non ne ho. Secondo me, quello che abbiamo cercato di fare noi è gestire al meglio i ragazzi, cercare di farli allenare con continuità, capire i momenti in cui sono più stanchi, i momenti in cui sono meno, possono darti di più. Stamani, ad esempio, abbiamo fatto un buon lavoro, però con un po' meno di quantità, un po' più qualità, meno quantità, perché effettivamente un paio di giorni sono un po' più stanchi e quindi queste sono le regole che diciamo ci indirizzano. Poi i segreti non ne abbiamo. Cercare di farli recuperare bene, farli mangiare bene, farli stare bene nei momenti di relax. È giusto dire che ci sono fasi di preparazione che vanno di settimana in settimana in avvicinamento al campionato? Sì, è un po' più difficile oggi fare questo discorso. Prima si faceva, perché comunque avevi 15 giorni in cui la palla non la toccavi, o comunque poco, quindi potevi gestire al meglio anche facendo una programmazione. Oggi con le amichevoli molto più, diciamo, fitte e anche molto più impegnative rispetto a quelle che si facevano prima, è più difficile programmare. Non penso che sei molto spesso costretto a cambiare programmi, perché comunque hai di sicuro più infortuni, perché comunque la caviglia, la botta, la cosa. Sì, è chiaro che arrivando vicino al campionato cambia il lavoro, però non è più facile programmare come prima, sia a livelli di B, di C e anche di Serie A. Ci sono molti più impegni, al quale poi comunque devi sempre fare bella figura, quindi programmi male, dai. Grazie mille, buon lavoro. Prego, grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.